Musica Buon pomeriggio ragazzi e bentornati al TG Gulp, l'appuntamento con l'informazione di Rai Gulp. Alcuni ragazzi di Librino a Catania ci hanno voluto raccontare le belle iniziative promosse dalla loro scuola. Siamo qui alla Campania dell'Asturzo, scuola di Librino. A quale laboratorio hai partecipato? Allora, ho partecipato al corso di fotografia con il maestro Resa. Ci siamo esercitati a fare fotografie, abbiamo imparato anche a fare fotografie con il maestro Resa. Cosa ti è rimasto? Mi sono divertita e ho imparato a fare meglio le foto. Invece vai, a quale progetto avete partecipato? Abbiamo partecipato al rito della luce che è stato un evento rappresentato da Antonio Presti. Siamo stati un po' tutti ragazzi di Librino a rappresentare questo progetto. Rappresentava la luce del noi di Librino, perciò è stato un rito abbastanza bello. E magari se si potrebbe ripetere sarebbe anche una cosa buona per noi di Librino. Invece tu a quale progetto hai partecipato? Ho partecipato sia al progetto di fotografia che a quello delle bandiere. Quello delle bandiere è stato molto carino perché abbiamo dipinto su alcune tele molto grandi e poi queste tele sono andate, alcune negli ospedali, dove c'era un reparto per i bambini che stavano male e sono stati molto contenti di vedere tutti questi disegni. E alcuni invece sono stati appesi nei pali, nella tangenziale. E così quando la gente passava vedeva subito il lavoro dei ragazzi di Librino. Questo percorso ha restituito ai ragazzi la possibilità di coniugare il proprio futuro su una via diversa, la via della bellezza. Chi a me ha detto che la scuola è noiosa? Ci si può anche divertire. Da Librino è tutto. Ciao ragazzi! Vi saluto e vi ricordo l'appuntamento per domani sempre qui con me alle 16.45. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!